La preghiera di chi ha fede, di chi ha il coraggio di credere che Dio può fare tutto, fa miracoli e cambia la Chiesa. L'ho detto Papa Francesco nell'omilia della Messa del Mattino preseduta a Casa Santa Marta, commentando l'episodio biblico della preghiera di Anna, che era sterile e che chiedeva al Signore la grazia di un figlio. Una preghiera col dolore e con l'angoscia, ha detto il Papa, che affida quel dolore e quell'angoscia al Signore, che tante volte noi non sappiamo fare, fino alla lotta con il Signore, alle lacrime per chiedere la grazia. Il Signore ha accolto la sua preghiera e svegliato la pietà del sacerdote che prima derideva Anna. La preghiera fa miracoli. Anche fa miracoli a quelli che sono cristiani, siano fedeli laici, siano sacerdoti, vescovi, che hanno perso la pietà. La preghiera, la preghiera dei fedeli, cambia la Chiesa. Non siamo noi, i papi, i vescovi, i sacerdoti, le suore, a portare avanti la Chiesa. Sono i santi e i santi sono questi, come questa donna. I santi sono quelli che hanno il coraggio di credere che Dio è il Signore e che può fare tutto.